Ok, buonasera e benvenuti alla British School. Io sono Robert Code Stevens e stasera è il mio grande piacere aprire la nostra serie di conferenze di primavera con la prima lezione che accompagna il nostro corso annuale di Master in topografia ed archeologia di Roma. Perciò non potremo essere in migliori mani di quella dell'Equipe della Sapienza, università che, come sapete, col suo Dipartimento di Scienza dell'Antichità ha appena sopassato Oxford e Cambridge nella classifica del QS World University Rankings come leader mondiale degli studi classici. I nostri relatori di stasera, infatti, non hanno bisogno di presentazioni nell'ambito dell'archeologia di Roma. Mattia Epoliti è assegnista di ricerca in archeologia classica presso la Sapienza e ha recentemente pubblicato la sua monografia Tra il Tevere e la via Rapia, carattere e sviluppo di un paesaggio suburbano di Roma antica nel 2020. Era anche, mi ricordo, una frequente presenza nella nostra biblioteca prima della pandemia e lo spero che di nuovo sarà quando finalmente riappriamo. Paolo Caraffa è professore di archeologia classica presso la stessa Sapienza e anche lui un grande amico della British School, da quando ha condiviso l'interesse per Pompei con Andrew Wallace-Hedrill e poi con Christopher Smith con i lavori su Landscape Archaeology. Ha diretto i famosissimi scavi delle appendici settentrionali del Paratino, pubblicati nel volume Santuario di Veste del 2017. Fra le altre sue numerose pubblicazioni, menzionò la monografia fondamentale sul comizio del 1997, l'Atlante di Roma antica, insieme con Andrea Carandini, la cui edizione inglese è uscita nel 2017, e il recentissimo libro, anche questo in collaborazione con Andrea Carandini, dal mostro al principe alle origini di Roma, pubblicato dalla terza questo anno. E proprio questo è l'argomento di stasera, in una lezione che sarà registrata e poi messa online sul nostro canale YouTube. Io adesso scomparirò dallo schermo, ma ritornerò alla fine per passare le vostre domande a Paolo e a Mattia, e le domande potete scriverle usando il pannello QA sullo schermo. Allora, passo la parola ai nostri relatori con l'intervento Domas Palatina, nuove ricerche nella casa di Augusto. Paolo. Grazie, grazie Robert, e grazie alla British School per ospitarci, anche se in maniera virtuale. Effettivamente sono tanti anni che ci frequentiamo e speriamo che ne verranno ancora molti altri con una libertà maggiore. Ringrazio il Parco del Colosseo, senza il quale le cose che vi stiamo per illustrare e non saremmo riusciti a realizzarle. Ringrazio Mattia Ippoliti, che oltre ad essere un nostro validissimo allievo e collega molto giovane, e lui a coordinare le attività sul campo. Faccio partire la presentazione. Benissimo. Il Palatino è stato il centro delle nostre attività ormai da moltissimi anni. Dal 1985 abbiamo iniziato l'indagine dell'appendice nord del monte. Dopo oltre 35 anni siamo riusciti ad indagare oltre un ettare e mezzo dell'appendice fino al tempio di Vesta e ci siamo spostati sull'appendice sud, esattamente qui. Queste appendici ci hanno rivelato un archivio incredibilmente ben conservato, incredibilmente leggibile, che ci hanno proiettato di fatto verso la possibilità di leggere in dettaglio molto analitico la storia del paesaggio di Roma. Quindi tra l'indagine sulla pendice nord e questo progetto nuovo abbiamo lavorato a scala urbana per raccogliere tutte le informazioni che ci potessero permettere di documentare i cambiamenti delle architetture dei luoghi di Roma per raccontarne una storia complessiva a scala urbana e tutto questo è stato pubblicato nell'Atlante di Roma, che per fortuna Robert ha appena ricordato. Qui vedete la copertina dell'edizione inglese e le due piante di fase del Palatino, perché naturalmente passando dalla scava del singolo luogo alla scala del monte e dell'intera Roma sono stati molti i monumenti di cui ci siamo interessati e tra questi naturalmente la casa di Augusto. Augusto era intimamente legato a questo monte, lui era nato sul Palatino, era tornato a vivere sul Palatino nell'angolo opposto rispetto a quello dove era nato e finalmente acquista una casa sul ciglio meridionale del monte, la vendizia che guarda l'Aventino, e lì costruirà il primo palazzo imperiale di fatto di Roma, come vedete in questa immagine. La nostra storia di fatto è una storia archeologica che inizia con i grandi scavi di Rosa sul monte. Potete qui vedere due immagini di questi scavi. Si andava delineando per la prima volta in maniera estesa l'archeologia del monte e sulla base di questi dati e ancor più sulle conoscenze sistematizzate da Lanciani che si svilupparono le prime ipotesi topografiche riguardo diversi monumenti di Roma, ma in particolare per quello che ci interessa oggi sulla casa di Augusto. Lanciani, altri studiosi, Hülsen, hanno cercato di localizzare la casa di Augusto tra la Domus Flavia e la Vigna Barberini. Un'ipotesi addirittura identificava la casa di Augusto con i resti dell'Aula Isiaca, una casa tardo-repubblicana sul Palatino naturalmente di questo tono, ma di fatto la partita fu chiusa topograficamente parlando con l'identificazione da parte di alcuni studiosi, principalmente Pinza seguito da Richmond, del tempio scoperto da Rosa presso l'appendice sud del monte come il tempio di Apollo, intorno al quale si doveva essere sviluppata la casa di Augusto. Questa è una pianta di Pinza che per primo suggerì in maniera più sistematica di altri l'identificazione del luogo in cui doveva essere cercata la casa di Augusto e cercò di definirne la fisionomia interna. Ed è una pianta per noi molto interessante perché intanto conserva degli elementi che poi archeologicamente sono stati documentati o male o mai più, come per esempio questo muro che si rivela poi fondamentale per la comprensione del portico in quest'area o la relazione che non si è poi mai più vista tra queste strutture, qui tra l'altro Pinza credeva si dovesse localizzare la biblioteca della casa di Augusto e la casa di Livia. Naturalmente lui non si limita a documentare ciò che vede, ma considera ciò che vede per formulare un'ipotesi e, vedete, suggerisce l'esistenza di un portico non intorno al tempio ma alle spalle del tempio, perché Pinza pensava che l'ingresso del tempio di Apollo fosse su questo lato. Vedete, lui scrive Cella in questo punto e Pronao dall'altra parte. Richmond, un anno dopo, riprende la questione, documenta tutto ancora una volta e sulla base dei resti visibili allora propone a sua volta una interpretazione della casa di Augusto integrando il quadro archeologico con i luoghi, le parti della casa, gli arredi che sono ricordati nelle fonti letterarie. Vedete, Richmond invece gira il tempio, lo immagina aperto verso sud. Con questo si è ottenuto che ci troviamo forse in uno dei pochissimi luoghi di Roma dove questioni topografiche apparentemente non ce ne sono. Esiste però un problema archeologico di conoscenza analitica del monumento che di fatto attende ancora oggi un'edizione sistematica. La casa di Augusto è ad oggi un monumento ancora inedito. Noi stessi lo abbiamo commentato, lo abbiamo analizzato, ma lo abbiamo raccontato, diciamo così, per sommi capi. Intorno al tempio di Apollo ormai scava carettoni, scavi durati decenni, non pubblicati, che hanno portato alla scoperta del monumento che ancora oggi è definito casa di Augusto. Dal punto di vista planimetrico e di documentazione architettonica, purtroppo principalmente gli scavi carettoni hanno prodotto delle immagini di questo genere qui. Per fortuna l'Atomei ha pubblicato i diari di scavo e questa pianta, ma di fatto questa è stata la base della conoscenza che ha portato all'identificazione di questo settore dove ci sono questi ambienti con queste ombre grigie con la casa del primo imperatore di Roma. Il problema è che questa casa si trova ad un livello inferiore rispetto al piano di spiccato del tempio, ma questo elemento venne ricompreso nella considerazione del monumento. e dalla scoperta dell'edificio si sono, e ovviamente sono delle stanze famosissime, da questo momento si sono succedute una serie di ricostruzioni che hanno tentato di definire la forma dell'architettura di questo monumento. Queste sono una parte delle ricostruzioni, ci sono supposizioni che lo vedono come un edificio piuttosto piccolo, delle idee che lo immaginano come un edificio molto grande, articolato in vari nuclei, questo è un po' uno stato dell'arte. Il dato principale è che le ipotesi oscillano tra una compatibilità eventuale tra il tempio in alto e le stanze dipinte famose in basso, oppure una successione di elementi nel tempo. Ancora, guardate, questa è un'illustrazione, vi chiedo scusa per la qualità non molto buona, ma l'ho acquisita da un libro recentemente, edito un libro dedicato alla Domus Aurea. In realtà, e qui riconoscete il colosso nel vestibolo, il bacino, il claudium, il padiglione dell'oppio, però in questa vista è compreso il palatino. Vedete la magna mater, se ingrandiamo il dettaglio, vedete che a fianco al tempio di Apollo abbiamo le biblioteche separate e questo è il peristilio sul quale si affacciano la stanza dei festoni di Pino, la stanza delle maschere. Quindi è ancora oggi, perché il libro è stato pubblicato lo scorso anno, e si oscilla tra queste supposizioni. Ci sono poi delle ipotesi recentissime, quella di Peter Weisman a sinistra, e di Pensabene, un libro apparso pochi giorni fa, mesi fa, in cui continuano di fatto a moltiplicarsi le possibili soluzioni a riguardo una possibile configurazione architettonica dell'edificio. Il che naturalmente è un bene, no? Il proliferare delle ipotesi è indizio di un dibattito che si svolge. Però è anche indizio, purtroppo, in alcuni casi, di una non particolare chiarezza nei dati. Allora, per parte nostra, abbiamo cercato di riprendere il dossier intero, cioè far parlare il monumento, cosa che effettivamente, in tutti questi anni di dibattito molto lungo, è stato fatto poco, e infatti il monumento, come ho detto, è ancora inedito. Ora, tra tutte queste ipotesi e tra i dati di cui si può venire a conoscenza leggendo o andando sul monumento, ovviamente, ci sono due punti che possiamo considerare per fortuna ormai fissi. Il primo punto è che la casa decorata con le pitture, delle maschere, dei festoni di pino e tutto il resto, è un monumento diverso, precedente ed incompatibile con il Tempio di Apollo. qualsiasi ipotesi di ricostruzione della casa di Augusto che parta dal presupposto che siano convissute stanze dipinte con il peristilio, chiamiamolo inferiore, e Tempio di Apollo, sono sbagliate. Perché? Perché la sequenza statigrafica rivela che le strutture della casa inferiore, chiamiamola così, vengono affiancate, come a rinforzarle, da nuove fondazioni, il tutto viene interrato, ovviamente l'interro è stato asportato dagli scavi carrettoni, tranne una parte, e sulle fondazioni nuove e sulle fondazioni della prima casa viene costruito il basamento del podio del Tempio di Apollo. Quindi la successione cronologica, l'articolazione in edifici e la possibilità di convivere uno con l'altro li dobbiamo in qualche modo considerare. Dal punto di vista archeologico non lo stiamo identificando ancora questi edifici, tranne il Tempio di Apollo naturalmente superiore, è uno dei dati acclarati che dobbiamo considerare poi nella ricostruzione dello sviluppo della storia di questo monumento. Un secondo elemento è l'orientamento del Tempio. Abbiamo visto che dal secolo scorso alcuni studiosi pensano che il Tempio si aprisse verso l'area palatina, di fatto. Altri studiosi pensino, hanno pensato e pensano tuttora che il Tempio si aprisse verso la Valle Murcia, verso l'Aventino, e grazie al nuovo studio di Zinc, che vedete qui nell'immagine, Zinc ha creato un rilievo dettagliatissimo dei resti, era pubblicato per fortuna, Zinc si è accorto che nel punto in cui si poteva collocare la colonna d'angolo della fila frontale delle colonne sul Tempio, c'è nella fondazione in cementizio una cavità dove c'era evidentemente il sostegno lapideo per la fondazione della colonna. Questa è la pianta del Tempio elaborata da Zinc con i prospetti dei resti, questo è il fronte del Tempio, vedete, c'è una cavità all'interno del quale dobbiamo immaginare il supporto in pietra, in tuffo, insomma la classica fondazione lapidea all'interno del nucleo del podio che poteva supportare la colonna. Ecco, questo qui è Zinc stesso all'interno del cavo e qui vedete, vi sta dall'alto, la posizione della cavità che è l'indizio della posizione del colonnato della fronte del Tempio. Quindi il Tempio guardava verso la Valle Murcia e il Tempio, l'esistenza del Tempio rende impossibile la continuità d'uso delle stanze affrescate. Questi sono gli unici punti fermi da cui siamo partiti all'inizio della nostra indagine, all'inizio delle nostre cose. Questa scansione, naturalmente, non è stata a merito nostro, un famosissimo articolo che è diventato un po' la base per la revisione di questo monumento. È apparso, vedete qui, una pianta. Il dato ulteriore qual era? Che la cronologia relativa è quella che impone di distinguere la casa inferiore dalla fase quale che fosse il suo aspetto associata al Tempio. Ma in termini di cronologia assoluta, i materiali recuperati nelle terre scavate da carettoni datano anche la fase superiore all'età di Augusto. Per cui questi due monumenti sono da intendere molto ravvicinati nel tempo, in successione uno con l'altro, incompatibili uno con l'altro, ma tutti racchiusi nell'ambito dell'età di Augusto. Il Tempio di Apollo, peraltro, è stato inaugurato nel 28 a.C., quindi stiamo tra il momento in cui Ottaviano si sposta sul versante sud del monte, per non parlare del famoso fulmine del 36 a.C., ed il 28 a.C. Questi sono i termini cronologici all'interno del quale si dovrebbe intendere la storia di questo monumento. Proponendo questa scansione temporale, le due autrici hanno proposto anche una ricostruzione della casa di Augusto, che era una di quelle sagome che abbiamo visto nella slide appena scorsa, in cui il Tempio è affacciato su un portico lungo e stretto, su un lato del portico la biblioteca, e al lato del Tempio un edificio e una seconda parte non chiaramente conoscibile, perché poi le modifiche ulteriori dall'età di Claudio in poi l'hanno modificata fino ad essere stata di fatto inglobata dalla grande domus dell'epoca Flavia. Ora, riprendere questo dossier significa lavorare alla scala che è illustrata in queste immagini. Vedete, questo è il settore del Palatino Sud-Ovest, riconoscete la piattaforma della Magna Mater e Vittoria, questo è il contesto da considerare topograficamente se vogliamo analizzare di nuovo tutti i resti archeologici che possono darci informazioni sulla casa di Augusto. Dal punto di vista conoscitivo il quadro è questo. La zona circondata dalla linea blu è stata in parte scavata, le aree rosse, e in parte non scavata, tutte le aree verdi. Le aree verdi chiaro sono quelle che si potrebbero ancora scavare senza rischio, l'area verde scuro sono aree interrate ma che però allo stato attuale presentano dei seri rischi di stabilità. Inoltre, a differenza di questo lato della casa addossata a cui si addossa il Palazzo Flavio e che conosciamo bene e a differenza dell'area della Magna Mater così a lungo e sistematicamente indagata e pubblicata anch'essa, abbiamo un settore di cui di fatto dopo gli scavi Bartoli degli anni 30 non conosciamo di fatto nulla. Non conosciamo nemmeno qual è la scansione delle entità architettoniche e topografiche che si trovavano in quel luogo e per questo abbiamo inserito nel progetto conoscitivo grazie ancora una volta alla collaborazione del Parco e del Colosseo anche quell'area in giallo con la lettera C. ora si tratta di un monumento incredibile fantastico ricchissimo di tracce e testimonianze ricchissimo di possibili spunti di letture approfondimenti pensate soltanto alla decorazione pavimentale architettonica scultorea e pittorica non ne parliamo per ragioni di tempo ci limiteremo adesso a seguire lo sviluppo delle fasi architettoniche principalmente per vedere come si possono integrare alcune parti per cercare di definire a livello topografico anche che tipo di successione e di estensione possiamo immaginare in questo momento e alcuni dati sono legati naturalmente ad analisi che ormai sono state immaginate affidabili o considerate affidabili altre invece lo vedremo presto sono frutto del nostro lavoro o prego Ippoliti naturalmente di intervenire ogni qual volta lui pensa sia utile allora primissima fase e presso le scale Caci di fronte al luogo dove gli antichi pensavano che sarebbe stato celebrato un frammento del rito della fondazione di Roma c'è una domus in rosso vedete i muri conservati in grigio le possibili integrazioni un monumento e un monumento che per tecnica edilizia e per le pitture ed altri resti decorativi si data nella seconda metà intorno alla metà diciamo del secolo primo avanti Cristo questa casa che volendo seguire le nostre fonti potremmo addirittura identificare con la casa di Ortalo figlio acquistata da Ottaviano a un certo punto viene estesa in questo contesto topografico il santuario della Magna Mater la casa di Livia una seconda domus di cui sono rimaste poche tracce in questa casa il nucleo della casa della prima fase con le famose stanze dipinte ed un peristilio si costruisce un corridoio che di fatto raddoppia l'estensione della casa aggiungendo a questo nucleo centrale di fatto una parte speculare a quella più antica la possibile integrazione dei resti noti è questa il primo peristilio il nucleo della prima casa il corridoio che convenzionalmente viene chiamato le volte sollate il secondo peristilio interamente da scavare ancora resti di sale intorno beninteso tutto ciò è il piano interrato di una parte alta a cui si accedeva dalla strada superiore questa sezione ci aiuta a leggere lo sviluppo planimetrico della casa in grigio vedete i muri conservati la relazione tra la strada di accesso al piano superiore e la parte interrata lo sviluppo del fronte verso l'appendice di roccia la relazione tra questa casa ed il ninfeo che tanto ha fatto discutere in questi ultimi anni eccolo qui una stanza rotonda ci torneremo più oltre su questo monumento lo sviluppo longitudinale invece della casa lo possiamo leggere sulla base di questa sezione ancora una volta in grigio i muri conservati un possibile sviluppo del piano terra a livello della strada e l'area compresa tra le scale di accesso al palatino e il limite del palatino su quest'altro lato questa è una possibile ricostruzione del fronte di questo edificio con i due peristili uno da una parte ed uno dall'altra e seguendo diversi esempi dell'architettura dell'epoca una parte centrale più più alta l'appendice del monte è facilmente immaginabile come sostruita da muraglioni come l'appendice a fianco e tutta la parte antistante la magna mater in questa fase e poi abbiamo immaginato una serie di domus a livello del ninfeo che abbiamo visto in sezione questa è una visione per avere una suggestione di come potesse apparire questo insieme la parte centrale non documentata il primo peristilio coincidente con il nucleo più antico con la prima casa il secondo peristilio che estende la casa più antica il livello dei corridoi al piano interrato una parte che protrude attestata dalle strutture tardorepubblicane in questa fase che oltretutto il punto su cui stiamo lavorando ora il ninfeo scavato nella roccia la roccia del monte le scale caci immaginata una trama tutta intorno questo è l'edificio che viene interrotto la parte ultimata disallestita vengono tolti i pavimenti vengono tolti tutti gli altri elementi decorativi e l'area viene in qualche modo rafforzata con fondazioni nuove e tutto viene interrato alcuni ambienti vengono sostruiti con volte quindi non sono accessibili ma di fatto diventano delle concamerazioni verso il regge una parte più alta e tutte le strutture che si possono attribuire a questo ulteriore periodo della vita dell'edificio o meglio dire la costruzione di un edificio nuovo sul vecchio sono queste che vedete nella pianta una prima osservazione è che questo complesso quale fosse la sua forma o quale che sia l'ipotesi che noi diamo rispetta l'asse del complesso che viene interrato il primo peristilio sta qui il secondo peristilio sta qui il tempio viene posto sull'asse del complesso architettonico che viene abbandonato prima osservazione la seconda osservazione è che per fortuna di questo luogo abbiamo individuato dei limiti che ci danno una prima configurazione dell'estensione di questo complesso il primo limite evidente è una strada che prosegue l'asse delle scale Caci ed una strada che limita la casa di Libia e un secondo limite è una grande fondazione che corre in questo punto qui quindi diciamo che abbiamo perlomeno uno spazio definibile in tre lati all'interno di questo lotto chiamiamolo così si individuano alcuni nuclei il tempio naturalmente un nucleo di diciamo che include le case repubblicane che in parte restano a vista in parte vengono interrate la grande sala un spazio racchiuso da fondazioni e questa è l'area su cui Tedone e Jacopi immaginavano si dovesse stendere il portico di fronte al tempio di Apollo ne derivano un'ulteriore area in questo punto priva di resti l'abbiamo già detto perché qui leggiamo solo le fasi ulteriori e infine un settore in questa zona qui che viene suggerito dall'esistenza di alcune strutture in questa zona che la casa di augusto a questo punto la casa costruita dopo il 36 ed inaugurata nel 28 col tempio che Apollo si estendesse dalla cima del monte verso Claventino è dimostrato da un dato importante si sono accorti dall'occhio e pensa bene che la fondazione sulla quale si proponeva e anche noi ci abbiamo pensato per un periodo di collocare le colonne del portico di fronte al tempio di Apollo in realtà era una fondazione superata da un sistema di volte lo vedete in questo schizzo sul cui estradosso sono allestite delle piccole pile in mattoni che portano il bollo di Cosconius un officinator piuttosto noto dell'ancor più noto Pollione quindi a conferma del fatto che questo monumento è un monumento dell'età di Augusto ci sono anche questi elementi ma questo significa primo che queste fondazioni non hanno una funzione di sorreggere degli elementi verticali ma sono effettivamente delle dei limiti di grandi scatole che venivano interrate per assicurare una costruzione ad un livello più alto secondo che sono allestite con un allestimento da area scoperta perché è riconoscibile in questo allestimento di pile un sistema in cui si possono effettuare piantumazioni di vario tipo è un diaframma che sorregge delle aree scoperte e coltivate anche o allestite a giardino in quel senso senza danneggiare la stabilità della volta sottostante quindi era importantissimo leggere in dettaglio tutte le informazioni che si trovano al di là di quella fondazione la fondazione chiamiamola così scavalcata dalle volte in questa pianta è la numero 14 e questa qui e il nostro primo lavoro è stato censire tutto ciò visibile o non visibile o documentato rinvenuto in quell'area incluso un famoso frammento della forma urbis marmorea che spiegheremo a breve localizziamo in questa zona questo è il quadro delle conoscenze il primo il primo censimento che noi abbiamo fatto per raccogliere tutte le informazioni archeologiche prima di cominciare a scavare naturalmente un'idea di quale potesse essere o dovesse essere la configurazione di questa pendice ce la danno una serie di viste dove vedete questa è Santa Anastasia il Circo Massimo la Valle Murcia in questo punto esistevano nel Cinquecento ancora i resti di strutture molto possenti di 4 5 piani in elevato che si addossavano all'appendice del monte questa è una prima stampa guardate questa questo tratto qui si conserva ancora oggi guardate la chiesa qui qui ancora una vista dell'intera appendice il Circo Massimo e in quest'area ancora vedete queste strutture queste concamerazioni che ortogonali dall'appendice creano una struttura che in qualche modo sana e dislivello tra la via tra il Circo e il Palatino e la cima del monte qualcosa tra il Seicento e il Settecento succede perché la situazione della pianta di Nolli è abbastanza vuota vedete resta pochissimo ci sono una serie di ambienti paralleli qualche resto qui un altro pezzettino qui ma di fatto di quelle grandi strutture sembra non rimanere traccia da una certa epoca in poi su questo spazio vuoto ci siamo concentrati qui nella foto aerea vedete l'area dell'intervento queste coperture sono il tempio di Apollo e abbiamo effettuato un'analisi geofisica geoelettrica in particolare perché l'interro è molto molto cospicuo e abbiamo fatto dei carotaggi meccanici vedete qui il risultato di tutto ciò è stato un sistema di tracce che suggerisce l'esistenza di una struttura addossata ancora una volta all'appendice questa è più o meno la linea del contorno naturale del monte i resti della casa di Augusto e il secondo peristilio tra l'altro vedete questo è il peristilio interrato della casa inferiore e il colore rosso le anomalie positive cioè i luoghi dove sono individuate strutture e in pianta si nota una grande struttura lungo l'appendice del monte un'altra struttura parallela più o meno ad essa e una terza che chiude il sistema in senso opposto tutta l'area lo vediamo in sezione era comunque costruita guardate in superficie quante anomalie ci sono ma sul lato e sul fronte le strutture scendono ad una quota molto più inferiore guardate da 30 metri circa sul livello del mare e arriviamo quasi sui 10 stiamo parlando di un fronte costruito di circa 20 metri qui questo l'area rossa in questo punto e questo punto della pianta quindi stiamo diciamo sull'asse delle scale caci più o meno e anche sul fronte questa anomalia qui profonda e questa anomalia qui in pianta quindi questo spazio sembra effettivamente definito anche nella parte interrata oggi da delle strutture che limitano un'area chiamiamola approssimativamente quadrangolare all'interno di quest'area abbiamo effettuato li potremmo chiamare piuttosto delle test trenches più che scavi veri e propri l'interro è tutto moderno in alcuni casi contemporaneo e si rivelano questi ambienti lunghi e stretti che ci hanno permesso una documentazione analitica delle strutture nella stratificazione naturalmente materiali da tanti per le strutture non ce ne sono bolli non ne abbiamo rinvenuti per lo meno in questo ambiente per confronto possiamo attribuire queste murature ad un momento non precedente il secondo secolo dopo Cristo diciamo una fase adrianea per quanto sia possibile confrontare queste queste tecniche ma suggerimenti ulteriori per quanto riguarda la struttura che doveva occupare quello spazio ci vengono da altre osservazioni e questo è il muro che divide l'area del nostro intervento in blu questo è il muro dalla domus flavia qui si notano chiaramente diversi livelli il primo qui in alto un altro in basso corrispondente più o meno al piano su cui oggi si può camminare e una soglia intermedia ci indica un altro livello testimoniato da questa abrasione sulla muratura che chiaramente è l'attacco di una volta che veniva verso diciamo le scale caci il palatino è sulla sinistra la valle murcia sulla destra quindi un altro indizio a favore dell'esistenza in questo luogo di concamerazioni ortogonali al colle che in qualche modo conformavano una struttura addossata dal basso verso l'alto all'apendice ecco questi sono i livelli altri livelli orizzontali naturalmente li abbiamo potuti osservare grazie ai sondaggi meccanici che hanno attraversato dei piani a determinate quote quindi abbiamo una scansione diciamo completa da questo livello qui fino al livello della strada che divideva il palatino dal circo massimo traducendo tutto questo in una pianta il complesso che gravitava davanti al tempio e ai suoi lati era preceduto da uno spazio scoperto che superava la fondazione tradizionalmente considerata come il limite del portico antistante il tempio e si estendeva come una specie di grande scatolone appoggiato al monte limitato da questo lato dal limite del palazzo Flavio da questo lato dalle strutture visibili ancora oggi e raccordate a quelle individuate sotto Sant'Anastasia e da questo lato da alcune strutture documentate in quest'area ma soprattutto dalle anomalie che abbiamo individuato grazie alle nostre indagini e sempre in colore scuro vedete tutti gli altri tratti di muratura che possiamo attribuire a questa fase quindi il monumento casa di Augusto almeno nel secondo secolo dopo Cristo lo possiamo immaginare così questa è una possibile ricostruzione dello sviluppo verticale di questa grande struttura sostruttiva addossata al monte questo numero 12 è il pavimento che abbiamo raggiunto nel corso dei nostri scavi questo livello è quello indicato dall'abbrasione nel muro del pedagogium questo è il livello superiore naturalmente e questi due livelli inferiori sono quelli indicati dalle quote dei garotaggi questa struttura molto molto consistente forse ospitava tra le altre cose l'edificio raffigurato su questo frammento famosissimo della forma urbis marmorea tradizionalmente il frammento viene collocato o in corrispondenza di queste fondazioni ho spostato un pochino verso la magna mater ma in entrambe i casi l'area del frammento conservata invadrebbe il fronte del tempio e quindi ciò significa che sul frammento dovrebbero essere rappresentate le scale di accesso del proneo che non ci sono quindi si può supporre che la posizione del frammento fosse un'altra ma siccome dobbiamo rimanere nell'area di Apollo come dice l'iscrizione stessa una plausibile posizione per il frammento è questa coincidente peraltro in questo tratto con alcune strutture rinvenute sul fronte di questo sistema e quindi nel terzo secolo dopo Cristo si potrebbe integrare la pianta che abbiamo visto prima con l'inserimento di ciò che viene raffigurato anche in termini di porticato vedete qui il frammento ha delle colonne rappresentate nei due frammenti di marmo della forma o sul codice che rappresenta il frammento ci siamo capiti c'è qualcosa di più perché in questo in questo piccolo contesto esistono anche strutture più antiche del secondo secolo dopo Cristo sono poche sono numericamente di meno di quelle più più tarde ma ci danno degli indizi particolarmente importanti si tratta soprattutto del grande muro che si trova sotto la chiesa di Santa Anastasia è un muro in blocchi di tuffo alto nove metri con un ingresso qui vedete l'architrave è uno stipite della porta tutto ciò si vede ancora oggi sotto la chiesa e questo ingresso è posto sull'asse del tempio di Apollo il che fa pensare ad una relazione possibile tra queste strutture e il contesto superiore la parte superiore della casa che si viene configurando un po' più in alto sull'appendice e leggermente più a monte si trovano tracce di pilastri in travertino e di murature in reticolato e blocchi tutto ciò tradotto in una vista verticale è questo il grande muro sotto la chiesa di Santa Anastasia la porta d'ingresso il pilastro in travertino con l'attacco di un arco le murature superiori dove vedete i cerchi rossi nel prospetto e abbiamo intercettato con i garotaggi meccanici le pavimentazioni che scandiscono la successione dei piani interna a questa grande struttura il che significa che anche se quei pavimenti che abbiamo intercettato fossero del secondo secolo dopo Cristo come le altre murature strutture del primo dopo Cristo rispettano quella scansione verticale per questo pensiamo che già nella fase chiamiamola così originaria della casa di Augusto di fronte al tempio si trovasse un grande terrazzo in parte sostenuto dagli interri realizzati per ricoprire la casa con i due peristili e in parte sostenuto da questa incredibile struttura che ormai era di fatto nelle capacità degli architetti romani santuari terrazzati li conosciamo da tempo prima dell'età di Augusto e ci immaginiamo una struttura di questo genere qui nella pianta vedete i resti attribuibili alla fase Augustea e qui a destra in basso una possibile ricostruzione dello sviluppo verticale con i frammenti conservati indicati in prospetto questa è l'immagine della casa di Augusto che noi vorremmo sottoporre a verifica o a falsificazione come si usa dire nelle scienze dure confrontando questa pianta con tutto ciò che noi sappiamo dalle nostre fonti in particolare è una casa che chiaramente si può dire casa solo perlomeno in queste due zone e allora forse questa è la zona dell'edificio nella quale si può immaginare la tripartizione famosa attestata tra le fonti con Augusto che vive con Apollo e Besta questa è un'altra ricostruzione possibile del complesso visto dal dal fronte con la sua scansione e questa è la relazione che si viene a creare in questa fase la casa precedente vi ricordate finiva di fatto al ridosso della roccia questa è la relazione che si verrebbe a creare tra il ninfeo di cui abbiamo già parlato le strutture che segnano il fronte di un qualcosa di nuovo che viene a sostenere un'estensione della piazza ancora una volta in sezione longitudinale la cima del monte questa è la casa di Livia le strutture conservate le strutture interrate il ninfeo la grande sostruzione e il portico che ci immaginiamo nella parte antistante la porta di accesso a tutto questo sistema sotto Santa Anastasia i livelli superiori a questa quota il pilone alla quota superiore questi sono gli elementi disponibili sui quali abbiamo costruito questa questa ricostruzione e questa è un'immagine per cercare di ricucire tutti gli elementi che abbiamo visto fino ad oggi la cosa che ci tocca un po' è questo fronte obliquo ma d'altra parte questo muro obliquo c'è è uno dei pochi muri che abbiamo ed è uno dei muri obliqui che sono stati rinvenuti al di sotto della chiesa di Santa Anastasia per cui abbiamo suggerito un ingresso e la porta anche è quella che c'è e quindi abbiamo suggerito una struttura speculare ai lati dell'ingresso in realtà a questa ricostruzione si deve affiancare un problema ulteriore il ninfeo che abbiamo visto già diverse volte è stato interpretato come parte dell'Upercal alcuni dicono di sì alcuni dicono di no la posizione da questo lato delle scale Caci spiegherebbe perché l'Upercal è detto in circo secondo altri il complesso delle fonti non consente invece di spostare così lontano dall'appendice diciamo ovest del monte questo antichissimo santuario come che sia l'interpretazione del ninfeo ha una conseguenza sul nostro monumento perché Dionigi di Archialicarnasso vede la grotta Dionigi viene a Roma nel 30 31 muore tra l'8 e il 7 diciamo camminando lungo l'appendice sud è un brano molto famoso lui vede perché si mostra questa 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 grotta questo significa che se non vogliamo interpretare quel ninfeo come il il luogo visto da Dionigi la ricostruzione va bene così se invece vogliamo accettare la possibilità che quel ninfeo sia identificabile con il Lupercal allora quella ricostruzione deve essere datata dopo il 7 perché almeno fino a quando Dionigi non è morto noi dobbiamo assumere che quella grotta fosse visibile e quindi dobbiamo verificare la possibilità che questo grande terrazzo antistante il tempio di Apollo abbia sicuramente superato la fondazione che si immaginava essere il limite del portico le Danaidi ma si potrebbe essere in una prima fase arrestato all'appendice rocciosa del monte e solo successivamente si potrebbe o meglio potrebbe essere stato esteso qui vedete ecco la possibilità la casa di Livia le strutture interrate l'appendice del monte il ninfeo e già le prime strutture che sorreggono un porticato antistante il tempio e solo in seguito sarebbe stato aggiunto un secondo porpo vi ripeto di questa successione di fasi non abbiamo traccia dobbiamo farcene carico perché se vogliamo interpretare quel ninfeo con il Lupercal ne consegue che quel tratto dell'appendice palatina almeno fino al 7 avanti Cristo deve essere in qualche modo rimasto visibile tutto ciò non modifica di fatto la forma della casa sia che nasca piccola e poi si estenda sia che nasca subito grande ed è quindi questa la struttura architettonica nella quale dobbiamo cercare di localizzare tutti i luoghi le decorazioni e gli angoletti le stanze da letto che grazie alle fonti letterarie oppure epigrafiche noi possiamo attribuire alla casa di Augusto da questo punto di vista la nostra ricerca è veramente all'inizio stiamo per iniziare un secondo ciclo di indagini sul campo che cominceranno in giugno quello che possiamo sapere fino ad ora lo abbiamo diciatto sovrapposto vedete qui una serie di didascalie in cui suggeriamo delle possibili localizzazioni per una parte di quei luoghi che abbiamo visto nella tabella e conosciamo ormai però piuttosto bene diciamo la fine della storia perché come al solito partiamo dalla siamo dalla fine andiamo verso l'inizio in epoca Flavia le strutture che possiamo attribuire a questa sostruzione con terrazzo superiore e alla sua diciamo proiezione verso la valle Murcia quindi il circo massimo queste sono sempre le fasi di epoca Flavia individuate al di sotto della chiesa di Santa Anastasia nel secondo dopo Cristo di questa ricostruzione abbiamo già parlato e infine in età severiana questo è il punto a cui siamo arrivati oggi attualmente ci concentreremo su questo settore perché ridocumentando tutto ci siamo accorti che le fasi attestate da queste strutture sono molto di più di quelle che non ci aspettavamo quindi dobbiamo pazientemente ricominciare da capo chiedere di nuovo al monumento di raccontarci una parte della sua storia che non ci ha raccontato ancora ridefinire nuovi quadri e a quel punto continuare con un'analisi che dal monumento archeologico dalla storia contenuta nel monumento archeologico è rivelata dalla successione delle fasi proceda verso considerazioni sempre più complessive di tutto il dossier delle informazioni grazie io mi fermerò grazie a tutti